Un inseguimento vero e proprio per le vie del centro di Brescia con ripetuti tamponamenti dopo un futile diverbio. La polizia di Brescia ha arrestato per lesioni aggravate un bresciano che ha inseguito a lungo, a velocità sostenuta a bordo della sua Toyota Yaris Nera, una Honda Jets bianca a bordo della quale c'era un padre con due bambini di 2 e 4 anni. L'uomo, secondo la polizia, abituale consumatore di hashish, già pregiudicato per danneggiamento all'interno di un bar e guida in stato di ebrezza, è stato segnalato alla sala radio della Questura dal conducente della Honda Jets impaurito. Una volta arrivato a Piazza Arnaldo, il papà ha iniziato a fare dei giri intorno alla iola centrale con la sua auto, fino a quando, dopo un violento tamponamento, si è fermata. A quel punto il conducente della Yaris è sceso e ha iniziato a inveire contro l'uomo, incurante del fatto che all'interno della sua auto ci fossero due bambini che piangevano terrorizzati. Poco dopo è intervenuta la polizia. Il papà e i figli sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde. Per lui una prognosi di 7 giorni per una distorsione cervicale, per i bambini una prognosi di 4 giorni.